ed eccoci qua ragazzi tornati su dragon ball ultra beat for power siamo qui che andiamo a combattere 10 round contro super android 17 andiamo a fare in modalità medio e andiamo subito a combattere questi stage così non mi piacciono tanto ragazzi perché un po' ingannano che non lo io ho in questo il kamehameha ha aumentato 10 mesi è la migraore tecnica che ho e non gli dice nello con questo vuole dire che sto in grandi problemi che valiente dove è il subranoito? ecco tutto il maldito tempo puoi sentire la tua presenza, comandante a contemplare o no o no dobbiamo arrivare a chi? non è stato la existenza solo vuoi dire che è il più forte di tutti non è così io anche lo sai ogni parte di mio corpo può sentire mai in mia vita ho sentire tal temor a peare tutto il maldito tempo puoi sentire la tua presenza, comandante muestra i tui poteri a questo superfetto è il resto di sattare di transportazione lo unico che necessito è concentrare perchè ti ho portavano 보 Bill una pelle avito che 10 그거 che il Tutto il maldito tempo, puoi sentire il suo presenza, covarde! Tu cavolo è? Dov'è Android 17? Dov'è Android 17? Ah, eccolo! Eh? Dobbiamo arrivare a 10, ragazzi! Ora qua un attimo! Tutto il maldito tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Quattro! All'altro tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Quattro! All'altro tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Quattro! Quattro! All'altro tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! All'altro tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! All'altro tempo! Ok! Sono ancora 2, vabbè ma non arriverò mai a 7 perché i round finisco subito. Visto che dobbiamo arrivare a 10 e per avere le 7 spere del drago, ragazzi, dobbiamo fare intorno alle 15 vittorie. All'altro tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Ma... dov'è? Qua! Ops! Tu cavole! Ops! Ecco! Tutto il maldito tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Ecco! Ops! Tutto il maldito tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Ecco! 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 Noooon! Tutto il maldito tempo, puoi sentire il tuo presenza, covarde! Ecco! Ecco! ho fatto altri territori ragazzi o 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 si nasconde ragazzi si nasconde l'avevo fatto io o 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 mamma mia explosione por tu culpa toda la Europa quedo estropeada no le hagas nada numero 17 o 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 e ora manca poi prossimamente con omega sharon con 20 round poi ci manca l'ultimo boss ragazzi avremo finito questo gioco e niente ciao a tutti belli o 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